Sì, pronto? Pronto? Pronto! Sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare. Chi è lei? Ok, 401-555-1125 Qui è Brindici, a chi vuole telefonare? 4-0... Ok, cominciamo da capo, 4-0-1 Qui non è la posta, io sono un privato cittadino Oh cacchio! Ok, cominciamo da capo, 4-0-1 Ha sbagliato numero Non le sto dando la quantità dei numeri, le sto dando i numeri, 1-1-2-5, sono gli ultimi quattro numeri Ma cosa vuole da me? Io sono un privato cittadino, cosa vuole? Sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare. Ma io non sono il postino! Oh cacchio! Io non sono il postino, sono un privato cittadino, cosa vuole? Sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare. Ma sei impazzito, coglione! Scopatina! Tut paesi ha un habito! Oh cacchio! Che! Ha! Sonia! Ch принципе! Grazie a tutti.